Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 19, tra Via 1 variante Aglio verso nord e tra Pian del Voglio e Aglio verso sud. La mobilità sempre in A1, 3 km di coda per incidente tra Badia e Aglio in direzione sud. Per lavori coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna. Spostiamo sulla Firenze Mare per traffico, code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto in direzione Firenze. Infibili per lavori coda di 1 km verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo, in carreggiata opposta 2 km di coda tra Ginestra e Montelupo. Per incidente inoltre 1 km di coda tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Mare. A Firenze possibili disagi per soste irregolari in Via della Pergola, Via Dante da Castiglione e Via di Soffiano. Muoversi di Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.